Accogliamo con favore la volontà da parte di ANAS di accelerare le manutenzioni sulla rete stradale sarda. Si tratta di una parte degli impegni presi. Restiamo in attesa del piano di assunzioni che dovrà necessariamente essere avviato in Sardegna e sul quale abbiamo già trovato piena sintonia. Così l'assessore regionale dei lavori pubblici Aldo Salaris ha commentato la pubblicazione dei nuovi bandi di gara ANAS per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale. Per la Sardegna si tratta di 35 milioni di euro di investimenti. Le nostre strade hanno urgente necessità di essere riportate entro i limiti della sicurezza, ha aggiunto l'assessore Salaris. Non possiamo più accettare che oltre alla mancanza di collegamenti celeri manchino anche collegamenti sicuri. L'assessore Salaris ha annunciato anche il ritorno in Sardegna a breve dell'amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini. Per l'assessore la nuova stagione di collaborazione avviata con ANAS nel corso della legislatura deve coincidere con un'azione forte e decisa di modernizzazione infrastrutturale della Sardegna. Non può esserci sviluppo economico senza puntare sulle infrastrutture, in primis su quelle stradali. I Sardi, ha concluso Aldo Salaris, aspettano da troppo tempo di vedersi riconosciuto il diritto alla mobilità. Fin qui le parole di commento dell'assessore regionale dei lavori pubblici sui programmi di ANAS per la Sardegna. Non possiamo non rimarcare che in Sardegna sono in corso interventi di ANAS dai tempi lunghissimi. Vedi il rifacimento del ponte sulla strada statale 126 alle porte di Carbonia, iniziati a metà febbraio, prorogati a metà maggio, privi ancora di una scadenza certa. Lavori che stanno provocando notevolissimi disagi alla circolazione nell'intero sul ciclesiente. Acuitisi, come ampiamente previsto, con l'arrivo dell'estate e l'intensificazione del traffico, soprattutto nei fini settimana.